Stato di emergenza per Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Lumbria. Contro la crisi idrica più grave degli ultimi 70 anni, come l'ha definita il Presidente del Consiglio Mario Draghi, lunedì il Governo dovrebbe emanare un decreto ad hoc con la nomina di un commissario straordinario per la siccità, in carica fino al 31 dicembre 2024. Un'emergenza ampiamente annunciata da un inverno secco, dal costante aumento delle temperature prodotto dalla crisi, alimentata dalle emissioni clima alteranti delle attività umane che hanno liquefatto quei serbatoi naturali che sono i ghiacciai e i nevai, e infine la pessima gestione delle infrastrutture. In media, in Italia, il 38% dell'acqua che potabilizziamo e mettiamo negli acquedotti si perde, e ogni anno preleviamo all'incirca 34 miliardi di metri cubi d'acqua. È proprio del cambiamento climatico il favorire gli eventi estremi, come caldo e siccità di questo inizio estate. I grandi fiume del nord, il Po, il Brent e il Piave, sono ridotti a pietraie, e questa è una minaccia per l'agricoltura che da sola assorbe il 51% dell'acqua raccolta, ma anche a Roma il Tevere è in secca e dalle sue acque emergono antiche rovine, ora luogo di sosta per gabbiani e nutrie.